Cosimo Genovese al terzo mitico anzietale Diamante Grazie, sono contentissimo, è molto soddisfatto di questa cosa Da quanto tempo lavori in azienda? Da un anno, un'azienda seria, precisa e in tutto Grazie a loro si portiamo il piatto a tavola, grazie a loro Che obiettivi ti poni da qui in avanti? Sempre i migliori, spero di avere obiettivi migliori in avanti Cercheremo di impegnarci al massimo, perché siamo noi a doverci impegnare Benissimo, grazie Cosimo Grazie a lei, gentilissimo E un ringraziamento alla Diamante per quello che fa per noi Grazie mille Grazie Cosimo Spero che sia venuto bene